Sapere antico e moderno Iscriviti al canale e metti mi piace 5 frasi di Carl Ransom Rogers Esiste un curioso paradosso, quando mi accetto così come sono, allora posso cambiare. L'incapacità dell'uomo di comunicare è il risultato della sua incapacità di ascoltare davvero ciò che viene detto. Non produce alcun frutto, a lungo andare, nei rapporti personali, comportarsi come se si fosse diversi da come si è. Credo che oggi le persone siano consapevoli della propria solitudine interiore come mai non era successo nel corso della storia. Solo una persona può sapere se ciò che faccio è onesto, esatto, aperto e valido, o falso, chiuso e non valido, e quella persona sono io. Grazie per la visione. Grazie. 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 Grazie.